Ciao a tutti ragazzi, siamo su DIRT4 e siamo pronti per affrontare l'ultimo evento del campionato globale rally. Ok, allora siamo nella parte penso più difficile, perché siamo in Svezia, c'è molta neve ragazzi, adesso in questo caso c'è nevicata leggera, cominciamo con subito un tracciato abbastanza lungo di 10,13 km dove il dislivello sarà di 90 metri e ci sarà neve fangosa e neve compatta. Allora, sono andato a fare delle modifiche alla mia auto, gli ho cambiato i colori e sono andato a mettere uno sponsor nuovo che dovrà fruttarci molti più soldi nel caso facessimo una bella gara e quindi siamo pronti per entrare in pista e farci notare. Ok, partiamo subito, no il colore dell'auto non ce l'ha cambiato, ho detto una cavolata, abbiamo la tappa, allora componenti, vediamo i componenti installati, allora qui non ci permette di fare meglio che non facciamo niente, abbiamo la tappa allo stesso senza fare queste modifiche ragazzi e siamo pronti per cominciare. Vediamo cosa ne viene fuori oggi ragazzi, freno l'hanno tirato, siamo pronti ragazzi? Ok Dobbiamo stare attenti ai bordi laterali della strada ragazzi Neve pangosa Neve pangosa Dobbiamo cercare di portarci a casa a un primo posto per provare a salire sul podio come primo posto nel campionato Senza distrarmi magari possibilmente Ok Destra 5 Ok Destra 4 e angolo retto, destra lunga Sinistra 6 Sinistra 3 in appallamento e crinale Destra 3 in appallamento e crinale Sinistra 2 lunga su dorsi Destra 4 Destra 4 Destra 4 Destra 4 Destra 5 su dorsi E sinistra 6 Sinistra 4 Destra 4 Destra 2 lunga su dorsi e crinale Sinistra 3 in appallamento e crinale Destra 5 Destra 3 in appallamento e descanda Attenzione e tienila sinistra su crinale Destra 5 lunga a ballamento Sinistra 5 Sinistra 6 Dosso crinale Destra 5 lunga su dorsi E sinistra 6 su dorsi Nessanda Sinistra 6 Dosso crinale Destra 5 lunga su dorsi E sinistra 6 su dorsi 60 Destra 5 E sinistra 3 in appallamento 60 Destra 5 Dosso 60 Destra 6 Su dorsi E sinistra 5 lunga su dorsi Crinale Dosso Destra 6 80 Destra 5 80 Angolo reddo Sinistra 60 in appallamento Destra 6 60 E sinistra su crinale Dai al centro sul crinale In linea in appallamento 60 Sinistra 5 Destra 5 Tieni la sinistra sul crinale Sinistra 6 in appallamento E crinale Possibile salto 60 Dosso Sinistra 5 60 Destra 3 in appallamento E sinistra 5 Sinistra 6 Dosso crinale Destra 5 lunga su dorsi E sinistra 6 su dorsi 60 Dosso Sinistra 5 60 Destra 3 in appallamento E sinistra 5 Destra 4 E sinistra 4 In appallamento Rocchietterri Attenzione Destra 3 in appallamento Destra 6 80 Su dorsi Sinistra 5 lunga Vieni la sinistra sul crinale Destra 6 Su dorsi 60 Destra 5 Non sapevo che mi fregava qua No! Che danno ragazzi, che danno! Ok, fortunatamente non si è danneggiata la macchina, però abbiamo perso un po' di secondi 5 e sinistra 3 in abballamento, 60, destra 5, dosso, 60, destra 5 e sinistra 3 in abballamento, 60, destra 5, dosso, 60, destra 6, occhi interni, 80, su dorsi, sinistra 5, lunga, viene la sinistra sul crinale, destra 6, su dorsi, 60, sinistra 4, destra 2, lunga, su dorsi e crinale Sinistra 3 in abballamento e crinale, destra 3 in abballamento, destra 4, crinale, sinistra 3, lunga, su dorsi, crinale con salto, 60, su dorsi, sinistra 5 in 60 dopo l'incrocio, destra 6, sinistra 6, 60, attenzione, tieni la sinistra sul crinale, salto, sinistra 4, In destra 5 in abballamento, in sinistra 4, su dorsi, 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 sinistra 5, destra 5, destra 5, sinistra 3 in abballamento, viene la sinistra sul crinale, salto, tronchi interni, destra 4 in abballamento, sinistra 4, sinistra 6, grinale, 80, Stiamo perdendo la concentrazione, ragazzi, sinistra 6, sinistra 6, destra 5, su dorsi, destra 6 in abballamento, no, cacchio ragazzi, dai, su, 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 vai veloce, vai veloce, 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 Ci sono certi punti del tracciato che se tocchiamo leggermente il freno, ragazzi, deve andare a colpetti di freno perché se lo fondiamo ci parte in testa coda la macchina Lunga su dorsi, destra 4, destra 4, crinale, sinistra 3, lunga su dorsi, altra 4, verso il commissario Ottimo tempo, era imbattibile Partita completata, ragazzi, abbiamo un po' demolito la macchina, ma non più di tanto, comunque ci siamo aggiudicati un primo posto La classifica evento, siamo chiaramente alla prima gara, primo posto, quindi cerchiamo di mantenere almeno questo ritmo e almeno questo tipo di risultato La prossima gara sarà un pochettino più breve perché saranno 7 km, mi sembra di aver letto, vediamo subito 7,88 km di livello 30 metri, neve compatta e sono le 5 e mezza di pomeriggio e c'è neve Ok, la cosa non mi piace tanto perché, visto che sono già le 5 e mezza di pomeriggio, vorrà dire che la prossima gara sarà ancora più buio E probabilmente le ultime tre tappe ce le faremo al buio Ora, fortunatamente la neve riflette e quindi la notte comunque sarà secondo me meno buia rispetto alle altre località Però, comunque sia, diventerà più difficile la situazione Ok Fremme l'ho tirato, siamo pronti ragazzi Si parte Sinistra 6, dosso, crinale, destra 5, lunga, su dosso E sinistra 6, su dosso, 60, destra 6, su dosso, e sinistra 5, lunga, su dosso, crinale, dosso, destra 6, 60, destra 4 sul crinale, sinistra 5, da ballamento, e attenzione destra 4, tieni la destra sul crinale, salto Sinistra 6, da ballamento, destra 5, su dosso, e sinistra 6, e sinistra 6, no, tieni la destra, mi hai detto, porca miseria Quattro secondi per aver fatto due piccioni con una palla ragazzi Sinistra 5, da ballamento, sinistra 4, su crinale, crinale, possibile salto, e destra 6, sinistra 5, destra 5, destra 6, e sinistra 5, su dosso, e destra 6, da ballamento, crinale, 60, stai al centro, sul salto alto, 80, sinistra 4, su dosso, destra 3, su dosso, e destra 4, lunga, in avanti, Sinistra 5, su dosso, sinistra 5, 60, destra 5, e tornante sinistra, lungo, apre, e destra 4 Attenzione sinistra 4, sinistra 5, attenzione sinistra 5, torna Antone Destra 3, in avanti, diventa 2, crinale Testo coda ragazzi, testo coda Riprendiamo, riprendiamo al volo No, i pedoni no, cacchio. Attenzione ragazzi, attenzione. Crinale, sinistra 4, 60, sinistra 5. Destra 5, tieni la sinistra sul crinale, sinistra 6 in appallamento. E crinale, possibile salto, 60, sinistra 3 in appallamento, tieni la sinistra sul crinale, salto. Trocchi interni e destra 4 in appallamento. E sinistra 4, sinistra 6, sudossi, destra 5, lunga, sottanto, sudossi. Sinistra 6, sinistra 5, destra 4 e angolo retto, destra, lunga, sinistra 6. Destra 6, 80, sudossi, sinistra 5, lunga, tieni la sinistra sul crinale. Destra 6, sudossi, 60, destra 5, sudossi, sinistra 4, lunga, in appallamento. E sinistra 3, sudosso, destra 4, sudosso, 60, destra 4 sul crinale. Sinistra 2, apri in appallamento, crinale e appallamento, destra 4 sul crinale, 150. Attenzione, rallenta, crinale con salto, destra 4, lunga, sudossi. Crinale, sinistra 4, 60, sinistra 3 in appallamento, tieni la sinistra sul crinale, salto. E destra 4, in appallamento, sinistra 4, sinistra 6 in appallamento, destra 5, sudosso. E sinistra 6, destra 4, e sinistra 4 in appallamento, con gli esterni. Attenzione, destra 3 in appallamento, sinistra 4, destra 2, lunga, sudossi e crinale. Sinistra 3 in appallamento, sinistra 4, e destra 1, e destra 5, e sinistra 6, lunga, 60, sinistra 5. Destra 5, tieni la sinistra sul crinale, sinistra 6 in appallamento, e crinale, possibile salto, 150, dai accesso sul salto, 60, sinistra 5, che danno. Stavamo esagerando, eh. Crinale, 60, destra 5, sudosso, sinistra 4, lunga, in appallamento, e sinistra 3, sudosso. Destra 4, sudosso, destra 4, e sinistra 4, in appallamento. Attenzione, destra 3 in appallamento, 100, dai accesso sul salto, alto, 60. La stiamo devolendo. 60, attenzione, tieni la sinistra sul crinale, salto, sinistra 4, e destra 5, in appallamento, e sinistra 4. Grinale, 150, al traguardo. Ok, torta la talco fissata. Grande traguardo, ragazzi. È andata bene, ottima tappa, complimenti. Ottimo, ottimo, ragazzi, è andata bene. Ci siamo fatti un bel primo posto. Abbiamo fatto qualche errore qua e là, ma l'importante è il risultato. Ci siamo comunque mantenuti il primo posto della classifica dell'evento, e ci siamo fatti una bella garetta. La prossima gara, ragazzi, sarà pesante, perché saranno 14,16 km. Io spero che si passi dai meccanici in questo momento per poter riparare la nostra vettura, per averla al meglio, più che altro per non averla troppo distrutta. E infatti mi sa che si passa dai meccanici alla riparazione. Comunque, 14,41 km, neve compatta, 18,45, intense nevicate, e sarà anche più buio, ragazzi. Quindi, prepariamoci perché sarà una sfida veramente difficile questa. Qui dobbiamo cercare di non... Avete notato che verso la fine tendo sempre un po' a sbagliare, perché chiaramente dopo un po' tendo un po' a... sotto stress, chiaramente, a stancarmi. Quindi più lunga è, ragazzi, più difficile sarà, perché vorrà dire che dovrò agire con tattica, cercando di avere un ritmo magari meno elevato verso l'inizio, in modo da... da cercare di non essere troppo stanchi verso la metà. Ok ragazzi, si parte! Preparciamoci a questa ultima sfida, con questo video. Attenzione, no, 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 dai, non cominciare subito. Sinistra 3, l'abballamento e crinale. Destra 3, l'abballamento e crinale. Sinistra 3, l'abballamento e crinale. Destra 3, l'abballamento e crinale. Sinistra 2, lunga, su dorsi. Destra 4. Destra 6. E sinistra 5, su dorsi. Destra 6, l'abballamento, se salta. Destra 4, sul crinale. Sinistra 2, apre in avvallamento, crinale e avvallamento, destra 4 su crinale Nooo testo a coda, recuperiamo ragazzi, mamma mia Se dai, contro la bandierina ci stampiamo e ci fermiamo E tornate a verso, sinistra Abbiamo rotto i fanali ragazzi E destra 5 In sinistra 6, lunga, 200 Attenzione rallenta, crinale con salto Destra 4, lunga, sudossi Crinale, sinistra 4, 60 Attenzione, tieni la sinistra sul crinale, salto Sinistra 4 In destra 5, appallamento In sinistra 4, sul crinale Sinistra 4, destra 2, lunga, sudossi e crinale Sinistra 3, in appallamento e crinale Destra 3, in appallamento Destra 6 Sinistra 6, appallamento, 80, crinale Destra 6 Destra 4, sinistra 4, in appallamento Attenzione, destra 3, in appallamento Sinistra 6, sudossi Destra 5, lunga, 80, sudossi Sinistra 6, 100 Dai al centro, su salto, 60 Crinale, 60 Crinale, 60 Destra 5, abballamento Sinistra 5, lunga, crinale E tieni la destra sul crinale 60 Crinale, 60 Stai al centro, sul salto alto, 80 Crinale, possibile salto E destra 6 Sinistra 5, destra 5 Mamma mia ragazzi, mamma mia che cosa stiamo combinando Attenzione, e tieni la sinistra sul crinale Destra 5, lunga, abballamento Sinistra 5 Attenzione, sinistra 4, sul crinale Destra 3, in appallamento Diventa 2, crinale, croce stende Sinistra 4, sul crinale 80, destra 6 Angolo retto, sinistra, lunga E sinistra 4 In destra 5 Sinistra 6, sudorsi Destra 5, lunga, montata, sudorsi Sinistra 6, 150 Attenzione, rallenta, crinale con salto Destra 4, lunga, sudorsi Crinale, sinistra 4, 60 Destra 5, abballamento Sinistra 5, lunga, crinale E tieni la destra sul crinale Certo Destra 4, sul crinale Sinistra 2, apri l'abballamento Crinale e abballamento Destra 4, sul crinale Destra 4, sul crinale Sinistra 5, abballamento E attenzione, destra 4 Tieni la destra sul crinale Salto Attenzione, e tieni la sinistra sul crinale Nooo Destra 5, lunga, abballamento Sinistra 5 La macchina non va più esponta, ragazzi Sinistra 3, abballamento Tieni la sinistra sul crinale Salto Tronchi interni E destra 4, in abballamento E sinistra 4 Sinistra 5, in destra 4 E angolo resto Destra, lunga Sinistra 6 Sinistra 6 Crinale 80, abballamento Destra 6 Sinistra 6 Destra 5, sudosso Sinistra 4, lunga, in abballamento E sinistra 3, sudosso Abbiamo perso i paraurti, ragazzi Sinistra 3, in abballamento Almeno ci siamo tolti del peso Sinistra 4, lunga, sudosso Destra 4 Sinistra 6 Crinale 80, abballamento Destra 6 Sinistra 6 Attenzione, sinistra 4, sul crinale Destra 3, abballamento 22 Crinale, rocce esterne Sinistra 4, sul crinale 80 Sinistra 6, sudosso Destra 5, lunga 80, sudosso Sinistra 6 60 Destra 4, sul crinale Sinistra 2 Apri in abballamento Crinale e abballamento Destra 4, sul crinale Sinistra 5 Destra 5 Tieni la sinistra sul crinale Sinistra 6, in abballamento E crinale, possibile salto 200 Attenzione, rallenta Crinale, con salto Destra 4, lunga, sudossi Crinale, sinistra 4 Destante Eh, mamma mia Ogni volta che ci sono i salti, ragazzi Io rovino la macchina Destra 5 E tornante sinistra Lungo, apri E destra 4 Sinistra 6 Sudossi Destra 5 Lunga Rocchi esterni 80 Sudossi Sinistra 6 Destra 6 Rocchi interni 80 Sudossi Sinistra 5 Lunga Tieni la sinistra sul crinale Destra 6 Sudossi 60 Sinistra 4 Sudossi Stiamo comunque mantenendo ancora il primo posto Non so neanche io come, ragazzi Comunque come dicevamo prima Nella prima parte di gara Abbiamo giocato anche abbastanza bene Dalla metà in poi stiamo staggiorando Speriamo di portare almeno al primo posto Sinistra 5 Lunga Sudossi Crinale Dosso Destra 6 60 Attenzione Sinistra 4 Sul crinale Destra 3 In abballamento Diventa 2 Crinale Rocchi esterne Sinistra 4 Sul crinale 100 Attenzione E tieni la sinistra sul crinale Destra 5 Lunga Abballamento Sinistra 5 100 Angolo retto Sinistra Meno male Ogni volta Oh guardate Il radiatore è stato colpito Sinistra 6 Lunga Ma dai Non penso che ci sia un pezzo di questa macchina Che in questa gara non sia stata colpita Dentro 3 In abballamento E sinistra 5 Sinistra 5 Destra 5 Vieni la sinistra sul crinale Sinistra 6 In abballamento E in crinale Possibile salto 60 Destra 4 Sul crinale Sinistra 5 In abballamento E attenzione Destra 4 Vieni la destra sul crinale Salto Sinistra 3 In abballamento Vieni la sinistra sul crinale Salto Rocchi interdi E destra 4 In abballamento Sinistra 4 130 Attenzione Attenzione Ralletta Grinale con salto Destra 4 Lunga Sudossi Grinale Sinistra 4 60 Destra 4 E sinistra 4 In abballamento Rocchi esterni Attenzione Destra 3 In abballamento 60 Attenzione E tienila sinistra sul crinale Destra 5 Lunga Abballamento Sinistra 5 Grinale Sessanta Stai al centro Sul salto alto 80 Sinistra 4 Sudosso Destra 3 Sudosso E destra 4 Lunga In abballamento Sinistra 5 Sudosso Destra 6 Angolo retto Sinistra Lunga E sinistra 4 In destra 5 Destra 4 E sinistra 4 In abballamento Rocchi esterni Attenzione Destra 3 In abballamento Destra 6 Sinistra 6 Abballamento 80 Grinale Destra 6 Destra 5 Sudosso Sinistra 4 Lunga In abballamento E sinistra 3 Sudosso Destra 4 Sudosso Sessanta Destra 4 Sul crinale Sinistra 2 Apre in abballamento Grinale E abballamento Destra 4 Sul crinale Sinistra 3 In abballamento E crinale Destra 3 In abballamento E crinale Sinistra 2 Lunga Sudossi Destra 4 150 Stenzione Rallenta Crinale Con salto Destra 4 Lunga Sudossi Crinale Sinistra 4 60 Destra 5 E Altra 4 Ok Verso il commissario Ottimo tempo Era imbattibile L'abbiamo investito il commissario Ragazzi Abbiamo completato questo match E' stata veramente molto dura Abbiamo demolito la macchina Ma ci siamo riusciti a fare strada Abbiamo mantenuto il nostro primo posto Comunque Concludiamo qui questo video ragazzi Allora Prossimo video Di Dirt 4 Ci spareremo le ultime tre tappe Per completare così il campionato Ora Io sono proprio curioso Di vedere Come siamo messi con la classifica Della In generale Ok Poi ci pensiamo la prossima volta E niente ragazzi Grazie a tutti per il vostro ascolto E al prossimo match Ciao a tutti Complimenti Hai terminato la visione Da questo momento Hai 10 secondi Per fare la tua scelta Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.